Torna a Teramo l'Aperi Street, un appuntamento che ha riscosso grande successo nella versione classica dell'aperitivo in strada e che in occasione del Natale diventa Aperi Christmas e si allarga in tutto il centro storico. Questa volta infatti l'evento in versione natalizia animerà Corso San Giorgio e Corso Cerulli con musica live davanti a tutti i bar del centro e negozi aperti fino a mezzanotte. Si parte da Piazza Martiri con l'Aperi Street, però con delle band live e con varie iniziative un po' sul Corso San Giorgio e sul Corso Cerulli abbiamo esteso la manifestazione un po' alle altre zone di Teramo del centro storico. Si parte dalle otto e mezza con live band dislocate in vari punti della città, negozi aperti, questa cosa molto importante, negozi aperti fino a mezzanotte, quindi la possibilità di fare shopping, di stare in giro per Teramo, dopodiché verso le 11, 11 e mezza partirà l'Aperi Street con la formula classica della discoteca, quindi il divertimento a Piazza Martiri. Quindi negozi aperti fino a mezzanotte, dalla costa verrà tanta gente, io vengo a Teramo, faccio due passi, ascolto un po' di musica dopodiché alle 11 mi vado a divertire a Piazza Martiri e questo è il senso della manifestazione, quindi non è centrata solo su Aperi Street. Arredi sempre particolari durante gli Aperi Street, questa volta cosa ci dobbiamo aspettare? Ma nulla di che, questa volta il tema è natalizio, quindi rimaniamo sul classico, nulla di particolare. Diciamo che ci teniamo qualcosa per l'estate, qualche sorpresa per l'estate, ci saranno delle date estive, partiremo sicuramente verso maggio con le date estive in Piazza Martiri e faremo qualcosa di diverso sicuramente.